Salve, oggi vi presento questo piatto al vegetale con piselli biologici raccolti ieri nelle macchie delle coserie Acropalati Provincia di Cosenza. La preparazione di questo piatto è molto semplice, si mette a far rosolare un po' di cipolla di quella tenera, si aggiungono poi i piselli, dopodiché subito dopo si mette circa mezzo litro d'acqua, poi ancora si aggiunge ovviamente della mentuccia, del finocchietto selvatico, si sfuma anche verso la fine con un po' di vino bianco, poi si mettono a cuocere i cannellini, si mescolano insieme e col piatto profumato delizioso al vegetale al 100%, molto delizioso, con il sapore tenere dei piselli molto saporiti. Ovviamente una buona giornata da Acropalati Provincia di Cosenza da Michele Exper.